Musica Cari telespettatori bentornati in diretta per una nuova puntata di Primo Cittadino Questa sera è tornato nei nostri studi il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, buonasera sindaco Buonasera a tutti E benvenuto, intanto vi ricordo che potete intervenire in diretta telefonando i soliti numeri 0721 86 14 33 per parlare direttamente con il sindaco Oppure potete inviarci un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250 Recapiti che troverete sempre in sovrimpressione Sindaco, direi di partire subito dalla novità di questi ultimi giorni Novità che lei ha accennato, annunciato sui social network, questo rimpasto di giunta Intanto di ritorno da Torino appunto dove è andato a vedere la partita di calcio Juve-Fiorentina Ha comunicato poi questi aggiustamenti Ha inventato questi tre nuovi assessorati che sono gentilezza, rigore e innovazione Quest'ultima che è stata affidata a Francesca Frenquellucci Come abbiamo ampiamente anche parlato sia a Rassegna Stampa che nel corso del nostro telegiornale Occhio alla notizia Frenquellucci che è stata candidata a sindaco agli amministrativi del 2019 per il Movimento 5 Stelle Questo è il Corriere Adriatico che questa mattina ha riportato tutti i dettagli che riguardano i vari assessorati e le varie deleghe Dicevamo appunto questi tre più importanti, gentilezza, rigore e innovazione senza adesso starveli a leggere tutti quanti Domani mattina alle 9 si terrà questa prima giunta post rimpasto Poi alle 10.30 una conferenza stampa Tante sono state le polemiche, le critiche ma anche persone che sono state a favore di questa sua decisione Abbiamo ascoltato oggi i pareri di molti pesaresi Alcuni, insomma quasi tutti a dire la verità appoggiano questa sua scelta C'è chi consiglia a Francesca di togliersi dal Movimento per non rimanere con un piede in due scarpe, in due staffe Però dicevo anche di queste critiche Ad esempio decisione che non è piaciuta a Vito Crimi, il capo politico dei 5 Stelle Crimi sostanzialmente per chi non avesse seguito questa vicenda Che cosa ha detto? Che questo ingresso in giunta, che non è appunto a guida 5 Stelle È incompatibile con la permanenza all'interno del Movimento di Raffrinquellucci Quindi ha chiesto a lei appunto di autosospendersi ed ha annunciato che il caso sarà sottoposto ai probiviri Domani mattina Francesca risponderà insieme a lei a quanto richiesto da Crimi? Ha già preso una decisione? Credo di sì e ovviamente bisogna essere molto rispettosi della discussione che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle Non solo e non tanto sulla vicenda di Pesaro Ma c'è una discussione nazionale che porterà il Movimento agli Stati Generali Che però in qualche modo si incrocia anche con quello che abbiamo fatto a Pesaro Alla fine delle state scorse è cambiato il quadro politico Con la nascita del governo Conte insieme a, appoggiato anche dal Partito Democratico E da altre forze di centro-sinistra è cambiato il quadro politico italiano E noi abbiamo provato ad interpretarlo Sicuramente Francesca me ne aveva, come dire, ha fatto un'opposizione dura Si era candidata contro di me Però abbiamo provato in maniera molto pragmatica a fare quello che secondo me la politica dovrebbe fare Cioè capire quali possono essere i punti d'incontro E il punto principale della proposta dei 5 Stelle alle comunali Era la riapertura del decentramento universitario a Pesaro Abbiamo cominciato a lavorare su quel punto Abbiamo trovato un'intesa prima in Consiglio Comunale Ho affidato a Francesca una delega come consigliera comunale Abbiamo lavorato molto bene in questi mesi E nel giro di poco tempo, per la sorpresa di tante Abbiamo ottenuto un grandissimo risultato Perché l'Università Politecnica delle Marche aprirà un corso già da questo settembre Di ingegneria informatica nella nostra città Con l'ultimo anno da svolgere in azienda Quindi un corso molto utile alle nostre imprese All'occupazione dei nostri ragazzi E' stata talmente positiva la collaborazione di questi mesi Che ho chiesto a Francesca di far parte della squadra Ovviamente continueremo a ragionare sulle cose da fare E penso che sia una cosa abbastanza naturale Perché qui dobbiamo uscire da una grande ambiguità O si pensa che questo governo nazionale Il governo Conte debba durare pochi giorni O se come tutti dicono Il governo deve durare fino al 2023 Lo dicono il PD, lo dice Renzi, lo dice l'EU Lo dicono i 5 Stelle Se è vera questa prospettiva Come fa a non cambiare il quadro politico italiano? Quindi io credo che Noi da oggi siamo un laboratorio politico in Italia Ma credo che quella è la strada Poi mi rendo conto che è complicato Io vengo da una maggioranza Dove ovviamente c'è stata una discussione approfondita Anche all'interno della maggioranza Insomma c'è chi ha dubbi C'è chi ha delle perplessità Però se è questo il quadro politico Io credo che dobbiamo avere il coraggio di portarlo avanti E abbiamo dimostrato nei fatti Che se si mette al centro i pesaresi, i cittadini, i contenuti Si possono fare delle cose insieme Quindi spero che anche i 5 Stelle a livello nazionale Capiscono che qui abbiamo voluto dare una mano E non di certo rompere le uova nel paniero a qualcuno Vogliamo provare a dare una mano e dare una spinta in questa direzione Del resto è la discussione che il Movimento 5 Stelle sta affrontando E che dovrà affrontare a livello nazionale nelle prossime settimane I consiglieri di centrodestra sono andati all'attacco Hanno richiesto le dimissioni immediate dei consiglieri 5 Stelle Da tutti i ruoli La ricomposizione delle commissioni E anche dall'ufficio di presidenza Però vorrei farle rispondere A quanto scritto pochissime ore fa Da Paolo Arrigoni su Facebook Senatore responsabile della Lega Marche Le vado a leggere soltanto alcune frasi Logicamente perché il discorso era ampiamente lungo Dicevo a scritto Rinci e Franco Ellucci Sono un esempio della cattiva politica fatta Da chi è abituato a seppellire sotto la pietra tombale Del trasformismo, ideali, programmi Eppure i rapporti umani che contano come il 2 di picchi Ha proseguito Ricci è uno specialista del transitare tra le correnti del PD E' passato ad essere da Renziano Doc a Zingaritti Ricci vuole che questa nomina faccia da Grimaldello Per l'accordo tra PD e Movimento 5 Stelle In vista delle prossime elezioni regionali delle Marche Il sindaco di Pesaro ha concluso Ha mangiato un pedone Ma le cabine elettorali non gli consentiranno La scorpacciata con cui mettere di nuovo sotto scacco I marchigiani Che cosa risponde sindaco? Intanto che io sono sempre stato nel PD Non ho mai cambiato partito in vita mia E ho sempre dato ogni volta Una mano al segretario di turno Io sono contro le correnti Quindi ogni volta provo con la mia testa A dare una mano al segretario di turno A fare la politica migliore in quel momento Dopodiché a Rigoni Come dire Non capisco anche il nervosismo di questa operazione Probabilmente gli sconquassa un po' di previsioni Però la Lega è molto distaccata Dalle esigenze di questo territorio Lo conosce poco Si esprime in maniera Spesso e volentieri grottesca Poche settimane fa Hanno fatto una campagna Contro la fusione del comune di Monteciccardo Partivano da Fano A dire a Monteciccardo Cosa dovevano fare E ha vinto il sì Con l'80% Sia a Pesaro che a Monteciccardo Alle comunali Hanno preso la metà dei voti Che hanno preso alle europee Metà di chi ha votato Salvini All'europea Ha votato per me alle comunali Diciamo che è un partito Che ha la visibilità Che gli dà Salvini Ma che sul territorio Esprime poco E mi pare che le dichiarazioni di oggi Confermino l'analisi Che ho appena fatto A proposito di regionali Sabato scorso C'è stata una tradizionale Cena di beneficenza Al Circolo Arci Tanti i fedelissimi di Ceriscioli Abbiamo visto anche qualche articolo Questa mattina sulla stampa Tra i tavoli sono state notate Molte assenze In particolare quelle Quelle della dirigenza Degli ospedali riuniti Marche Nord Però è stata notata Anche la sua di assenza Per quale motivo? In realtà era da un'altra parte I giornali ovviamente Fanno il loro lavoro Ma io ero a Torino E a Genova Perché sono presidente Da un anno Della Lega delle Autonomie Di ALI Autonomie Locale Italiane L'associazione Che tiene insieme I sindaci Dei comuni di centro-sinistra Civici Di area riformista Stiamo facendo il nostro congresso regionale Abbiamo iniziato a Genova venerdì Sabato eravamo a Torino Venerdì Questo saremo a Grotta Mare Per fare il congresso Delle Marche E quindi come dire Ero ampiamente giustificato E mi dicono Che comunque la cena Si è andata alla grande Perché era Piena di gente Come ogni anno A dimostrazione Che è diventato Un appuntamento tradizionale Dopodiché Il gossip politico Uno ci può costruire Quello che vuole Si mancherebbe altro Si discute tanto anche sulla presidenza Sui candidati alla presidenza Per le prossime elezioni regionali Pro Ceriscioli Pro Mancinelli Qual è la sua posizione Sindaco? Io credo che dobbiamo provare A mettere in fila Le questioni principali Cioè noi partiamo Da un dato europeo Che ci ha fortemente penalizzato Perché se sommiamo Il centro-destra All'europea E il centro-sinistra E il centro-sinistra È sotto di 20 punti In Emilia Romagna Per capirci Era sotto di 4 o 5 punti All'europea Quindi partiamo Da un handicap Diciamo Dall'ultima elezione Elettorale Molto forte Quindi credo Che noi abbiamo La possibilità di vincere Proprio perché La destra Nella nostra regione È molto scarsa Non ha grandi personalità Non ha Diciamo Un gruppo dirigente Secondo me All'altezza Di guidare la regione È chiaro Che però Il contesto politico nazionale Incide molto Sulla Sulle elezioni regionali Quindi noi abbiamo bisogno Di mettere insieme Innanzitutto Tutto il centro-sinistra Da Italia Viva All'EU Alle liste civiche A Calenda Tutto il PD Dobbiamo mettere in campo Una candidatura Che abbia la forza Di portare un valore aggiunto Bonaccini In Emilia Romagna Ha aggiunto Passato da meno 4 A più 8 C'è stato anche Un risultato Delle forze politiche Tutte unite Ma anche un suo risultato Personale Poi io credo Che Nella discussione Di 5 Stelle Che si sta facendo Fino all'ultimo minuto Dobbiamo provare A dialogare Con i 5 Stelle O l'evoluzione Del 5 Stelle Che vedremo Nelle prossime settimane Per provare A vedere Se ci sono Le basi programmatiche Per fare un accordo C'è una grande discussione In Emilia Romagna Si è visto Che non hanno tenuto Così tanti voti No Però Bonaccini Ha tenuto Questa linea Cioè ha dialogato Con loro Fino all'ultimo minuto Ha provato Fino all'ultimo minuto A fare un'alleanza Con loro Poi Di Maio Ha scelto Di andare da solo Ma gli elettori 5 Stelle Hanno votato Per Bonaccini Quindi Come dire Gli elettori 5 Stelle In Emilia Romagna Hanno fatto Una scelta Molto chiara Perché altrimenti Dati alla mano Bonaccini Non avrebbe vinto Con il distacco Che ha avuto Prima di passare A leggere i messaggi Dei cittadini Ad ascoltare Anche proprio La loro voce Perché ci sono Delle telefonate Pronte per lei Sindaco Giusto un accenno Al fatto che Pesaro Avrà un nuovo Presidente Di Marche Multiservizi Ma anche Un nuovo Segretario generale Sì È un gennaio 1 di febbraio Di cambiamenti Abbiamo Chiamato Un nuovo segretario Che è Claudio Chianese Che viene dal Piemonte Professionista Viene da Napoli In verità lui Ma ha 18 anni Di esperienza In Piemonte Molto bravo Ha fatto un'ottima impressione Ha una competenza Specifica sul bilancio Tant'è che Gli chiederemmo Probabilmente Di seguire Come delega In maniera particolare Anche le tematiche Del bilancio E quindi È una new entry Dopo Montaccini Che ha fatto Un ottimo lavoro E oggi si trova Al comune di Ancona Quindi come Un salto anche Importante Verso il comune Capoluogo E poi Ho chiesto Ad Antonello Delle Noci Di fare Nominato Antonello Delle Noci Nostro candidato Proponente Ma aspetta Il comune di Piesero Per la presidenza Della Marche Multiservizi Antonello Ha un'esperienza Straordinaria D'assessore Per me era un po' Il super assessore Assessore tutto fare Grande capacità gestionali Lavora nel privato Ha grandi competenze tecniche Ma anche una bella Testa politica E gli ho chiesto Di andare a ricoprire Questo ruolo Della Marche Multiservizi Che svolge Funzioni importanti Ma gli ho chiesto Anche di seguirmi Gratuitamente Come incarico fiduciario Del sindaco Alcune partite delicate Come la transizione Verso la fusione Con Montecicardo Il comune unico Il riordino Delle società partecipate E anche un po' Di operazioni patrimoniali Che stiamo facendo Quindi per me Rimano una grande risorsa Da oggi Un po' più tecnica Un po' meno politica Però sicuramente Una delle sponde E delle collaborazioni Più forti che ho E lo ringrazio Per aver accettato Così come ringrazio Galluzzi Che ha fatto per sei anni Un lavoro molto importante E ha rappresentato Alla grande Una società Che va molto bene Massimo ha raggiunto L'età della pensione Per fortuna per lui E quindi come dire Le due cose non erano Cumulabili E abbiamo Decidoso di fare Questo avvicendamento Sentiamo subito Allora chi c'è in linea La prima telefonata Per lei Sindaco Buonasera Buonasera Prego Buonasera Sindaco Dunque Io le voglio fare Due domande Non riguarderanno Le novità In giunta Riguardo altre cose Una domanda Diciamo che più di carattere Sul versante politico Una domanda Invece che Riguarda più La parte amministrativa Locale Dunque Per quanto riguarda La prima domanda E appunto Verte Sulle elezioni Regionali A me è parso E lo dico Dai lettori Del PD Che da parte Del partito Non ci sia stato Quell'adesione Alla candidatura Di Ceriscioli E anche Le parole Che ho ascoltato Da parte sua Mi pare Che ci siano Molto tiepide A memoria Vado a memoria Mi pare Che non ci sia stato Un caso In cui i presidenti Di regioni Non abbiano avuto Poi un secondo Mandato Ci sono stati Ripresentati Per un secondo Per un secondo Mandato E questo Mi pare Una cosa Abbastanza strana Anche perché Io leggendo Gli attacchi Che ci sono stati Contro Ceriscioli Preciso che io Ceriscioli Non lo conosco neanche Che non sono Un supporto Ma ritorno al discorso Guardando anche Gli attacchi Che ci sono Sui giornali Contro Ceriscioli Questi sicuramente A mio parere Vengono da certi ambienti Della sanità Del sud Delle Marche Che certe operazioni Come per esempio Tanto per entrare Nello specifico L'indirizzo Del DEAD Come c'era Ovviamente Che sarebbe Che il dipartimento Di emergenza Accettazione Dell'ospedale Unito alle Marche A secondo livello Questo è visto Come fumo negli occhi Da certi ambienti Anche per essere proprio Chiari chiari Anconetani Arrivi alla conclusione? Volevo sapere Se Prima domanda Ceriscioli Se rappresenta ancora Il candidato O uno dei candidati Seconda domanda Invece Molto più semplice Per riguardo Nel nostro ambito Locale Pesarese Che io sono Salutista E le chiedo Se il divieto Di fumo Che l'anno scorso È stata L'ordinanza È stata fatta Per la battizia Verrà esteso A tutta La riviera Tutto qui Grazie Grazie a lei Per il suo intervento Iniziamo dalle regionali Ma come vuole Allora io penso Che Ceriscioli Abbia Fatto molto meglio Di come appare Nel dibattito pubblico Ovviamente il mio punto di vista È privilegiato Perché faccio l'amministratore Conosco Luca So come Come lavora E quindi sicuramente Il mio giudizio Sull'operato di Ceriscioli Sicuramente è un giudizio positivo Stiamo discutendo Della formula migliore Da mettere in campo Per vincere Perché il punto è quello Cioè Il tema è Essere competitivi Per vincere Perché Noi non possiamo lasciare La regione A questa destra Non è più Neanche il centro-destra Di una volta Come dire Stiamo parlando Se confermeranno Acquaroli Di una destra Che fa riferimento Al vecchio MSI Fondamentalmente Esponenti del vecchio MSI E quindi dobbiamo capire In questo contesto Che compagine Possiamo mettere in campo Per essere I più forti possibili Stiamo discutendo Il candidato Ancora non l'abbiamo scelto Luca si è messo A disposizione Ma il mio giudizio Su di lui Sicuramente È un giudizio positivo Dobbiamo capire Qual è la percezione Dei marchigiani E capire Qual è l'assetto Migliore per vincere Sapendo che ci sono Degli alleati Con i quali ragionare E quindi questa è la discussione Che stiamo facendo Io spero che possa essere Una discussione Serena Politica Non personalistica Non E soprattutto Che ci consenta Di essere competitivi Perché Dobbiamo recuperare Anche un po' Di capacità Di discutere Fra di noi Perché altrimenti Se non abbiamo La capacità Di discutere Fra di noi Diventa tutto Più difficile Quindi questa è La mia opinione La conoscono tutti La conosce Luca La conoscono tutti Nei prossimi giorni Speriamo anche Con la collaborazione Del partito nazionale Di riuscire a prendere Un orientamento Il prima possibile Perché ovviamente C'è una campagna Elettorale da fare La seconda Sulla di vieto di fumo A me piacerebbe Non so se è possibile Farlo già da quest'estate Domani abbiamo la giunta Ne parlerò subito Con gli assessori Di competenza Una è Fra l'altro L'assessore dell'attività economica Quindi la Franquellucci L'altra è L'assessore dell'ambiente L'Aili Morotti Che ha fatto un ottimo lavoro Per il referendum Di Montecicardo Quindi domani mattina Ne parlerò Ancora non abbiamo preso Un orientamento L'estate ancora Ci sembra un po' lontana E abbiamo avuto Un po' di problemi In questi giorni Un po' più grandi Però a proposito di ordinanza Ne avete fatto Un anti-inquinamento Che sarà in vigore Fino al prossimo 16 di febbraio Anche per combattere Un po' con la stare Queste PM Sì abbiamo fatto Mi sono confrontato Prima di fare Quest'ordinanza Con un po' di tecnici Dell'Arkham In particolar modo Il fenomeno Delle polveri sottili È un fenomeno particolare Da noi Perché la buona parte Delle polveri sottili Che arrivano qua Non sono prodotte qua Ma arrivano Dalla penura padana Scendono lungo L'Adriatico E con i venti Si infilano nelle vallate Quando ero presente Alla provincia Avevo inventato La bandiera trasparente Che fra l'altro Rilancerò Come elemento Di certificazione Della qualità dell'aria E quando siamo andati A fare le analisi Abbiamo trovato Dei dati negativi Anche in alcune aree interne Perché quando il vento Soffia In una certa direzione Addirittura Le polveri sottili Ce le troviamo A metà provincia Addirittura Prima nella zona Premontana Della provincia E quindi È un fenomeno particolare Quello delle polveri sottili Le polveri locali Quelle prodotte da noi Solo il 15% Vengono Delle automobili Essendo Pesaro Già la città Della bicicletta Quindi una città Dove viene usata Molto la bicicletta Non ha Come dire Non è una città Che da questo punto di vista Non ha la sensibilità Ho deciso Di intervenire Nelle cause principali Che sono I riscaldamenti In particolar modo I riscaldamenti A legna E a pellet Quindi abbiamo fatto Un'ordinanza Per ridurre Di due gradi Quella La temperatura Di coloro Che usano Questi riscaldamenti Stiamo facendo Dei controlli A campione Abbiamo chiesto Alla Marche Multiservizi Di fare E abbiamo ordinato Alla Marche Multiservizi Di fare Lavaggi straordinari Delle strade Perché l'altro L'altro fenomeno È che le polveri Si depositano Sulla strada E con le auto Vengono alzate A livelli anche Di respirazione E la terza cosa Abbiamo vietato I fuochi I fuochi Che fanno I coltivatori diretti Piuttosto che altri Per bruciare Sterpagli Perché ci rendiamo conto Che è una piccola cosa Ma almeno È una piccola cosa Che va a incidere Sulla produzione reale Di polveri sottili Quindi invece Delle auto Abbiamo deciso Di intervenire Su questo settore Sapendo Che è il fenomeno Molto più grande di noi Che le polveri sottili Si muovono Però abbiamo fatto Quest'ordinanza Sperando che dia Un minimo risultato In un inverno Molto complicato Poco piovoso E troppo caldo Perché poi Il problema che abbiamo È che Non solo c'è un problema Climatico adesso Ma c'è un problema Per l'agricoltura Che comincia a essere Molto importante Rischiamo di non avere L'acqua poi Per la prossima estate Sono previsti comunque Dei controlli Anche delle sanzioni Per chi Si sono controlli A campione È chiaro che ci rendiamo conto Che noi possiamo andare A controllare Ovunque C'è il riscaldamento A pellet o a legna Però i vigili urbani Stanno attuando Dei controlli A campione E spero che i cittadini Abbiano accolto Lo spirito Dell'ordinanza Un'altra Notizia importante Di questi giorni È quella che riguarda Berloni Perché questa storica Azienda di cucina Che è stata messa In liquidazione Ormai lo sappiamo tutti Attende adesso Le offerte Si attende o non le offerte Per cui Insomma Una settimana importante E si spera anche decisiva Sì E speriamo Perché ci sono Tanti lavoratori In apprensione È un marchio Storico Del nostro territorio Siamo in costante Contenze In contatto Con il liquidatore E quindi Cerchiamo Speriamo Che ci sia un acquirente Sappiamo Con certezza Che ci sono stati Diverse Diversi interessamenti E quindi Speriamo Che uno di questi Interessamenti Possa andare a termine E possa tramutarsi In occupazione Confermata Per i lavoratori In un marchio Che rimane Qua È una produzione Per quanto si era ridotta Negli anni Che rimane nel territorio Perché Berloni Insieme a Scavolini Insieme a Febal Sono i tre marchi Storici Delle cucine Pesaresi E sappiamo Febal È stata acquisita Da Colombini Scavolini Per fortuna Va molto bene Da un'azienda Leader Nel settore A livello mondiale Berloni Si era rialzata Aveva rialzato La testa Era ripartita Poi è arrivata Questa doccia gelata Che ha anche sorpreso Rialzato Ha nel centrosinistra Anche se Acquaroli Periferiche Periferiche secondarie Senza alcun Discernimento Senza diciamo Un intervento Mirato Pezziso Sarebbe il caso Di dire Cirurgico Che cosa tenere Che cosa Lasciare Di questi precisi La situazione Delle imprese Non ne parliamo Uno straccio Di politica Sul turismo Che fa delle marche La cenerentola D'Italia Di cui L'aeroporto Di Ancona Per la sua situazione Vergognosa È l'emblema Migliore Lei mi dica Come fa Un elettore Di centro-sinistra Da sempre Come me A rivotare Una giusta Come quella Peseduta Dal signor Luca Ceriscioli Detto con ogni Franca cordialità Sono critiche Secondo me Eccessive Alcune Le comprendo Per carità Però alcune Eccessive Le faccio degli esempi Lei giustamente Si lamenta Delle strade Però magari Non sa Che se le strade Nella provincia Di Pesururbino Sono state asfaltate Penso a quelle principali La Flaminia Piuttosto che La Fogliense Piuttosto che altre O stanno per essere Asfaltate E grazie alla Regione Perché la Regione Marche è stata Una Regione Che nel passaggio Nella crisi Tombale Delle province Quando le province Non avevano i soldi Per fare E anche adesso Non hanno quasi nulla Ma addirittura Non riuscivano a chiudere i bilanci La Regione Marche Ha sopperito Alle difficoltà Delle province E ha fatto passare E ha fatto passare Molte strade All'ANAS Questa è un'operazione Che magari Ad esempio Una delle tante operazioni Che non sono state Rivendicate sufficientemente Sull'aeroporto Al di là Dell'indagine Che è in corso Che fra l'altro Riguarda Quattro mandati Quindi insomma Vedremo Ma di certo Ceriscioli Ha avuto La capacità Di salvarlo Dal fallimento L'aeroporto Adesso stanno Provando a rilanciarlo È chiaro Che fin quando Non si vedono Aumentare i voli Le rotte Eccetera Magari non ci si rende conto Però questo è un altro dato Che secondo me In verità È un dato importante Raggiunto Non percepito Come purtroppo La telefonata Ci dimostra Sul turismo La stessa cosa Sicuramente ci sono Tante cose da fare Che la regione Deve fare meglio Però quest'anno La Lonely Planet Ci ha inserito Nelle principali Bellezze del mondo Da visitare Questo ha dato Sicuramente Una visibilità Notevole Alla regione Marche La regione Marche Ci ha aiutato A festeggiare Alla grande Il centocinquantesimo Di Rossini L'anno scorso Sta lavorando molto Su Raffaello Quest'anno Sull'anniversario Dell'infinito Di Leopardi Cioè In verità Anche da questo Punto di vista Secondo me Sono molto più Le azioni fatte Di quelle che Appaiono Però ecco La considerazione Di questo cittadino Che diciamo Politicamente Non è di certo Pregiudizialmente Avverso Anzi Dichiara apertamente La sua appartenenza Di questa politica Dimostra Dimostra Che abbiamo Un problema Abbiamo un problema Di percezione Sicuramente Abbiamo fatto Degli errori Per carità Però sicuramente Dei temi Che ha toccato Su alcuni Probabilmente La percezione Non è esattamente Quella che corrisponde Alla realtà È peggiore Rispetto a quella Quella reale E vado a leggere Qualche messaggio Prima di andare in pubblicità Poi abbiamo anche Delle box fatte A cittadini Insomma Quando torneremo In diretta Ci saranno ancora Tanti altri argomenti Da affrontare Le chiedono Perché sulle PM10 Non si fa un confronto Con Fano Per una ordinanza Congiunta Non agire Con azioni disgiunte Come avviene In questi giorni Non so se lei ha seguito Quello che è successo a fare Sì è giusto L'avremmo dovuto fare Però vi spiego Anche qual è il meccanismo Che scatta Perché Spesso e volentieri C'è la fretta Quando ci sono Gli sforamenti I responsabili Degli uffici ambienti Hanno fretta Di fare qualche cosa Come se dire Facciamo qualche cosa Qualsiasi cosa si fa Mentre giustamente I sindaci Vogliono ragionare Su qual è la cosa Più efficace Io purtroppo Non ci ho pensato Ma ha ragione Questo cittadino Mi sarei dovuto sentire Con Massimo Capire se potevamo fare Una cosa comune Forse avrebbe avuto Anche un'efficacia Maggiore Però abbiamo un po' Inseguito Gli sforamenti Delle polveri sottili E quindi Quando sei in emergenza Ognuno ha cercato Di fare L'azione Che riteneva Migliore Però in generale Sarebbe stato sicuramente Utile Confrontarsi Magari prendere Le stesse Le stesse decisioni Ha fatto un intervento Sindaco sulla RAI Dove ha detto Che si stanno abbassando Le tasse Alle imprese In particolare Al solo pubblico Ma tutto questo Non è vero Per le imprese Edili Le cifre Sono molto alte Addirittura Triplicate Io ho detto Quello che succede A Pesero Che a Pesero Chi apre un'impresa Per tre anni Una nuova impresa Per tre anni Non paga le tasse comunali O meglio Le paga Il comune Le rimborsa I mutasi Suolo pubblico Tari La tassa Sullimondistia E la tassa pubblicitaria È uno strumento Che abbiamo messo in campo Da qualche anno Quest'anno L'abbiamo aggiustato Perché non funzionava Come volevamo E quindi riguarda Le nuove imprese È chiaro Che sulle vecchie imprese Invece non c'è stato Un abbassamento Delle tasse Però Probabilmente L'abbiamo spiegato male Ma insomma Le cose stanno così Non ho mai detto Alla RAI Che a Pesero Abbiamo abbassato Le tasse sulle imprese Non le abbiamo aumentate Questo sì Nel senso che Noi abbiamo L'addizionale IRPE Fa lo 0,6 Sia sulle persone Che sulle imprese E Non l'abbiamo aumentata Cosa che invece Gli altri comuni Intorno a noi hanno fatto Perché se guardiamo I comuni intorno a Pesero Ma in generale I comuni italiani Ce l'hanno quasi tutti Al massimo Allo 0,8 Noi quest'anno Non l'abbiamo fatto Proprio perché Vogliamo evitare Un aumento di tasse In un momento come questo Pur mantenendo Un altissimo Livello Dei servizi sociali Dei servizi educativi Delle politiche culturali E quindi come dire Con uno sforzo notevole Dalla parte del comune Che però Mantiene servizi Senza aumentare le tasse Però ecco Di certo Non li abbiamo Diminuiti Non li abbiamo toccate E non le pagano Invece le nuove imprese Quando sarà operativa La nuova RSA Di Villa Fastigi Spero presto Perché la struttura È pronta da giugno Speravamo di iniziare Speravamo che iniziassero Il primo di gennaio Non hanno iniziato Spero che sia davvero Questione di pochi mesi Stanno Stanno definendo Le procedure Le convenzioni Con la regione Però prima iniziamo meglio Non solo perché La struttura è finita Prima iniziano meglio Non solo perché La struttura è finita Ma anche perché Ci sono tante persone Che ne hanno bisogno È una struttura Che darà risposte Sociosanitarie Molto importanti Torneremo fra pochissimi minuti A parlare di scuole Di viabilità Di impianti sportivi Ascolteremo anche Quello che avete detto Oggi ai nostri microfoni Quindi le domande E consigli Che le rivolgono Ci vediamo fra qualche istante Di nuovo qua in diretta E siamo di nuovo in diretta Con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Prima di andare a leggere Ancora i tanti messaggi Che ci stanno arrivando Al 338 49 68 250 Sindaco vorrei farli ascoltare Le interviste Che questa mattina Il nostro Francesco Salvago Ha realizzato appunto a Pesaro E ha chiesto ai suoi concittadini Che cosa vorrebbero Per la città Sentite Secondo lei cosa si potrebbe Migliorare a Pesaro? Molte cose No, non tanto Per quello che ha fatto Il sindaco Matteo Ricci È stupendo È meraviglioso La città l'ha rinnovata L'ha rimodernata E ha fatto parecchio Molto E potrebbe venire Anche qualcosa Molto in più Se non pensano Le scatole Per non dire parole Gli altri Avrebbe lavorato Molto di più È frenato Molto anche dagli altri Ci troviamo Tutti soddisfatti Per quello che ha fatto Non per il fatto Del PD Come persona Come sindaco Ha lavorato Si è dato da fare È molto brava E intelligente Marciapiedi dove mancano? Marciapiedi dove mancano? Perché fanno le piste ciclabili Ma non ci sono i marciapiedi Secondo io sono invalido Al 100% Qui non posso più entrare Io c'ho l'invalidità Mi hanno mandato via i vigili Questa città è stata Molto molto Adesso Questi ultimi tempi Veramente rimessa a posto Poi pulita Anche a livello culturale Non sembra Ma forse i cittadini Dovrebbero Prendere più parte Della cultura Proprio veramente Fanno delle cose Straordinarie Hanno fatto quest'anno Quello che vorrei Un pochettino Queste barriere architettoniche Perché se l'assessore Ai servizi Guardassero un pochettino Anche i negozi Io come cittadina Vorrei andare in un negozio E non posso Perché? Perché le barriere architettoniche Ancora nessuno le controlla Perché io penso Che quando ristrutturano Un negozio Venirebbe che qualcuno Dell'assessore Dell'assessore All'urbanistica Andassero a vedere Perché inutile Se tu mi fai un servizio Igenico dentro Ma io sono scalino Per Pesaro C'è qualcosa Che vorreste migliorare Nella vostra città? Qualcosa per i giovani Si dice sempre Il sabato sera Non si sa mai dove andare Esatto Quindi molti vanno Su in Romagna Se quelli che rimangono qua Non hanno Molta possibilità Di fare qualcosa Il sabato sera Quindi questo è più che altro Quindi più innovazioni giovanili Sì Sì Sindaco allora Dalle barriere architettoniche A un'attenzione particolare Rivolta ai giovani Che cosa risponde A questi cittadini? Intanto che non mi ero messo D'accordo con nessuno È confermato Però non sembra che vi ho detto Io chi lo avevate intervistare Allora partiamo All'indietro Sui giovani Pesaro è diventata Una città molto più vivace Soprattutto dal punto di vista Culturale Come è stato detto Dal punto di vista Dall'iniziativa Soltanto che Per il divertimento giovanile D'estate Secondo me abbiamo raggiunto Dei bei livelli Perché il meccanismo Il modello che abbiamo messo in piedi Sostanzialmente permette ai ragazzi Di stare a Pesaro Divertirsi tutte le sere In bicicletta Evitare di prendere la macchina Per andare in Romagna Ed estate Diciamoci la verità Va in Romagna Solo proprio chi ci vuole andare Perché altrimenti Hai tante alternative In inverno invece il problema c'è Come dicevano queste ragazze Tant'è che sto predisponendo Un pacchetto di incentivi Per spingere ad aprire locali D'inverno Perché noi abbiamo bisogno A Pesaro Di almeno un paio di locali Per i giovanissimi Nel periodo invernale E che il comune vorrebbe incentivare Quindi non li può fare il comune di suo Però vorrei Sto studiando un meccanismo Per incentivarli Perché d'inverno invece Le alternative mancano Non abbiamo locali di pubblico spettacolo E quindi chi vuole andare a ballare Chi vuole fare serata Eccetera eccetera A parte diciamo Gli ex giovani come me Che hanno diverse alternative Ma i giovani veri Quelli che i ventenni I diciottenni A volte anche i minorenni Non hanno uno spazio vicino Da raggiungere in bicicletta Questo è il mio sogno Il mio sogno Il mio progetto È che avvenga d'estate D'inverno quello che viene d'estate Che i ragazzi possano divertirsi a Pesaro Andandoci in bicicletta E quindi stiamo studiando Dei meccanismi incentivanti Per far sì che Quest'inverno ormai sta finendo Insomma siamo a metà inverno Ma che già dal prossimo inverno Ci possano essere delle novità Stiamo lavorando su due o tre idee E spero di comunicare al più presto Sulla Barriera architettonica Ha perfettamente ragione La signora Perché abbiamo fatto tanto Ma dobbiamo fare molto di più Non è un caso che ieri ho fidato A Rito Briglia La delega come consigliere A Disability Manager Il Disability Manager È una figura che esiste già In alcuni comuni italiani Che ha il compito proprio Di mettere insieme le politiche Dei lavori pubblici Dell'urbanistica Delle attività economiche e sociali Per far sì che la città Sia sempre più accessibile Perché l'accessibilità della città È fondamentale dal punto di vista sociale Ma è anche fondamentale dal punto di vista economico Perché tutte le persone Con disabilità O semplicemente con dei bambini Se la città è poco accessibile Rischiano di scegliere Un'altra località rispetto a quella E ovviamente è fondamentale Per chi ci vive E che tutti i giorni Deve muoversi da una parte all'altra E l'altra cosa cos'era? Basta Più che altro sono stati poi Anche diversi complimenti Perché delle critiche Vere e proprie Insomma non ci sono state Ci scrivono anche Forse una voce fuori dal coro Ma devo dire che sto vedendo Una città nuova Una Pesaro nuova più giovane Che vuole emergere rispetto Alle altre province italiane Piuttosto che marchigiane Effettivamente E si collega alla telefonata precedente Le strade non saranno il top Le strutture Dislocamenti ospedalieri Avranno anche Le loro pecche logistiche Ma ci scrive il telespettatore Inviterei a spostarsi Nelle altre regioni E sondare sul campo La qualità Non siamo da meno Anzi siamo superiori Personalmente sono soddisfatti Abbiamo tanti altri messaggi Speriamo di poterli leggere Dopo la prossima telefonata Perché c'è qualcun altro Che vuole parlare con lei Buonasera Che c'è il telefono? Sì Mi sente? La sentiamo perfettamente Prego Salve Da Forse Ombarone Giorgetti Sì che cosa chiede al sindaco? La seguo sempre Lo lo sa Ci conosciamo Volevo sapere Il follower Il collegamento Come? Sei un follower Il collegamento per Roma Come? Sei un mio follower Su Facebook Sì sì Lo so Grazie Grazie Diceva Diceva questo collegamento Con Roma Io voglio sapere Il collegamento Con Freccia Bianca Con Roma Non si potrebbe fare Un collegamento Un più veloce Col treno Perché Si arriva sempre Alle 11 e mezzo Si arriva sempre tardi Mentre a Milano Alle 9 Già uno lì Praticamente Uno che fa un viaggio Per Roma Si perde 8 ore di treno Durante il giorno Come andare all'estero È vero Ma guarda Hai perfettamente ragione Io purtroppo Ci devo andare Tutte le settimane Quasi a Roma E quasi sempre Passo per Bologna Perché Ormai per noi È diventato Molto più semplice Andare a Milano Che a Roma Milano come dicevi Quest'estate Avevano Sembravano Quest'estate Quest'autunno Sembrava che togliessero Il treno Che parte la mattina presto E torna la sera Che molti usano addirittura Per fare avanti e indietro Milano Dallo stesso giorno E invece è stato mantenuto Abbiamo fatto una battaglia Con tutto il consiglio comunale È stato mantenuto E andare a Milano Per noi oggi è comodissimo Andare a Roma È un disastro Quindi sicuramente L'orario di partenza Sul quale In tanti si stanno battendo Ho visto anche Il consigliere Minardi Qualche giorno fa Per ripristinare L'orario precedente Sicuramente È una battaglia Da portare avanti Il punto vero È che noi abbiamo La orte falconara Che è un macello E quindi Finché Non arriva davvero L'investimento Da parte dello Stato Di ferrovie Su quella tratta Saranno sempre più Soprattutto a noi Dal nord delle Marche A passare per Bologna Perché Pesaro Bologna È servita molto bene Bologna A Roma C'è un Frecciarossa E un Italo Uno dietro l'altro E quindi è chiaro Che in tutti gli orari Delle giornate In tre ore Arrivi a Roma E ci arrivi Viaggiando meglio Solo che L'assurdità Che vai a nord Per andare a sud Questo ti dimostra Anche un'altra cosa A proposito di quelli Che erano contro L'alta velocità Che l'alta velocità Ha cambiato L'economia italiana È uscito uno studio Proprio qualche giorno fa Che dimostra Come le città Lungo la tratta Dell'alta velocità Siano cresciute Molto di più Delle altre E noi siamo tagliati fuori L'alta velocità Tutto il versante adriatico È tagliato fuori L'alta velocità Adesso porteranno La media velocità A 200 km orari Però è un problema Di competitività Notevole Quindi Noi nel nord Delle Marche Abbiamo l'alternativa Di Bologna Ma è anche vero Che è un'assurdità E quindi Sicuramente è giusta La battaglia sull'orario Ma la battaglia vera È la modernizzazione Della falconara orte Cerchiamo sindaco Di fare un botto E risposta Per i tanti messaggi Vorrei sapere Perché i lavori Della nuova circonvalazione Sono di nuovi fermi E quando ripartiranno Grazie per tutto quello Che ha fatto E che sta facendo Per Pesaro Ma diciamo Che tutta la La conflittualità Con società autostrade Non è che ci sta aiutando Perché Società autostrade Deve fare a Pesaro 90 milioni di opere E da quando C'è stata la tragedia Del ponte Morandi Hanno tirato il freno a mano Detto questo La circonvalazione Di Muraglia Sta andando avanti Sono più lavori E adesso parte Il lavoro Credo a giorni A settimane Del spostamento Dell'acquedotto E poi inizierà Il lavoro Della strada Vera e propria Nel frattempo È stata fatta la gara Stanno scegliendo La dita Che deve fare i lavori Quindi come dire L'unica opera Che mi fa stare Davvero tranquillo È l'interquartieri Di Muraglia La circonvalazione Di Muraglia Perché la gara È stata appaltata Sul resto Stiamo andando avanti Su tutto Con una tempistica Concordata Però spero Che ci trovi Una soluzione Nella conflittualità Tra Stato E società autostrada Perché noi rischiamo Di rimanerci in mezzo Sicuramente Le opere Verranno realizzate Ma rischiamo di allungare Ulteriormente i tempi E questo sinceramente Non possiamo permetterci Verrà allargato Il cimitero di Santa Maria Delle Febbrecce Oddio Adesso mi fa una domanda Che non mi ricordo Dovrei verificarlo A Santa Maria Delle Febbrecce Sicuramente Allargheremo La viabilità Della scuola La scuola elementare È in un punto In salita Vicino ad un incrocio Dove ci sono Grandi problemi Di viabilità Di parcheggio La mattina Abbiamo deciso Di espropriare Il terreno A fianco della scuola Per fare il parcheggio E per allargare La viabilità Era un impegno Che ci eravamo presi Con le mamme Di quella scuola E con le insegnanti Ed è un impegno Che stiamo portando avanti Quindi nel 2020 Ci sarà L'esproprio L'acquisizione Il progetto E spero già dal 2021 Di riuscire a realizzare Il lavoro E completarlo Una strada a quattro corsie Che colleghi l'entroterra Sasso Corbaro Lunano A Pesaro Ne abbiamo bisogno Sindaco Ma noi sicuramente Abbiamo lanciato Insieme al Sindaco Gambini La candidatura Di Città Europea Della Cultura Nel 2033 Pesaro e Urbino Co-capoluogo Di provincia Quindi sostanzialmente Tutta la provincia È una grande sfida culturale Però è anche una grande sfida Infrastrutturale Vorremmo legarci Dei progetti strategici Uno dei progetti È proprio legato Alla viabilità In particolar modo Alla Pesaro Urbino E se già avessimo Una Pesaro Urbino Migliore rispetto a quello Che abbiamo Anche il collegamento Con le altre strade Della provincia Iniziale della Fogliense Sarebbe sicuramente Tutto più semplice Notizie sul nuovo Casello di Santa Veneranda? Sta andando avanti Come dicevo prima Prima finisce La conflittualità Con Società Autostrade Più sono tranquillo Sulla tempistica Volevo far vedere Adesso le immagini Sull'impianto sportivo Di Muraglia Perché c'è stata Una importante Riqualificazione Qua vediamo le foto Che anche lei ha pubblicato Sui social network Però non c'è stato Un classico A taglio del nastro No Mi hanno fatto Una sorpresa Perché Tra il primo E il secondo tempo Poi mi hanno Regalato la maglia Con il numero Che portavo io Che è il numero 7 E poi a un certo punto È uscito Vimini Dallo spogliatoio E non lo sapevo Mi hanno fatto Tirare rigore a Vimini Fra l'altro Con le Clark Quindi potete immaginarvi E erano tutti convinti Che lo sbagliassi Anche perché C'era Il terreno umido Stava più vicinando Invece l'ho piazzata Nell'angolino E insomma Non c'è stato niente da fare Sono stato molto contento Perché Il rischio di cadere a terra Con quelle scarpe E il terreno bagnato Era davvero elevato Comunque Un ulteriore tastello Dopo questi lavori Sulla tribuna Gli spogliatoi A di là della cosa Abbiamo rifatto Tutto il manto erboso Oltre 400 mila euro Adesso stiamo realizzando Il campo nuovo a Vismara Stiamo facendo davvero Un sacco di investimenti Nello sport Perché Pesaro è una città di sport E avere impianti Adeguati Significa Far allenare al meglio I nostri figli E al tempo stesso Significa essere anche Più competitivi Dal punto di vista Del turismo sportivo Perché Stiamo portando a casa Manifestazioni su manifestazioni La prossima settimana Campionati italiani Di Duathlon anche Esatto la prossima settimana Avremo le final eight Di basket Abbiamo Ci siamo assegnati Bisgame del 2023 Un'altra manifestazione Importante Di ginnastica Dal punto di un campionato europeo Quindi insomma È una città Che sta Che si sta candidando A tante manifestazioni E più rinnoviamo E più rinnoviamo Gli impianti sportivi Più siamo competitivi Al di là del campanilismo Cosa ne pensa Se Fano e Pesaro Un giorno potessero Diventare un'unica città Metropolitana Per migliorare E unificare Le strade E i servizi Le due città unite Sarebbero grandi Quanto il capoluogo Quindi non solo Vallefoglia Come lei ha Le due città unite Sarebbero 150 mila abitanti Che diventerebbero 150 mila abitanti Ma io credo molto Nella collaborazione Tra le due città Moltissimo E con Massimo In questi anni Abbiamo fatto Sicuramente un ottimo lavoro Sono stato da Massimo A sostenere La candidatura di Fano A città italiana Della cultura Spero che a livello Ragionale Si riesca a fare Un accordo Su un'unica città Perché se ci dobbiamo Dividere tra Fano e Ancona Alla fine rischiamo Di non portare a casa niente E credo però Che il meccanismo aggregativo Per la storia Della nostra provincia Della nostra economia Avvenga per vallate Perché le marche Sono a pettine E abbiamo avuto Uno sviluppo per vallate Per questo credo molto Ad esempio Nell'aggregazione Tra Pesaro E la bassa Valle del Foglia Perché sono un unicum Dal punto di vista Morfologico Economico Abbiamo l'area industriale In comune La stessa parlata Sono piccolezze Ma ti dimostra Che quello è un bacino Omogeneo Fano Pur essendo vicinissima A 12 km È un'altra vallata E quindi secondo me Fano dovrebbe provare Ad aggregare I comuni Della bassa valle Del Metauro Noi abbiamo fatto Questo esperimento Dell'unione dei comuni Abbiamo adesso Fatto una fusione Io credo Che dovremmo ragionare Abbiamo cominciato A ragionarne con Ucchielli Nei giorni scorsi Dovremmo ragionare Nei prossimi anni Che cosa vogliamo fare Dell'unione dei comuni Io penso Che il futuro Dell'unione dei comuni Potrebbe essere Anche quella Di un unico comune Se non altro Per i comuni Della vallata del Foglia Cioè Pesaro Che adesso è anche Monteciccardo Montelabate E Valle Foglia Mi sembra più complicato Nel versante Diciamo più verso La Romagna Tavuglia alta Gabizia gradara Perché pur essendo Nell'unico ambito omogeneo Morfologicamente Stanno tra Pesarese Tra la vallata del Foglia E la vallata del Tavollo E quindi Credo che Già su quello Un unico comune Mi sembra molto più complicato Intanto Lavoriamo insieme Già l'unione dei comuni Ci consente di lavorare insieme Se noi riuscissimo a fare Pesaro Valle Foglia E Montelabate Diventerebbe un comune Di oltre 120 mila abitanti E saremmo Di gran lunga La prima realtà Delle Marche Avremo fatto sicuramente Una riforma storica Da lasciare ai cittadini Vedremo come evolverà Il dibattito Le casette dell'acqua Visto che sono molto utili A ridurre la plastica Perché non si mettono In tutti i quartieri di Pesaro Due sono troppo poche Sentiamo invece adesso Chi c'è in linea Perché abbiamo un'altra Telefonata per lei Buonasera Buonasera Sono Massimo da Pesaro Buonasera Sindaco Ciao Buonasera a te Volevo sapere Volevo togliermi una curiosità La stradina Che va verso L'Atletic Club Dove c'è Oltre L'Atletic Club C'è un orto frutta E un supermercato E una strada privata Dove si potrebbero organizzare Buonissimi mondiali da cross È vero Di chi è competenza quella lì? Siccome non è una strada È una superstrada quella lì È una situazione molto complicata Dal punto di vista legale Perché la strada è privata E non Praticamente Quelle aree sono finite Sotto fallimenti Quindi abbiamo dei liquidatori Come interlocutori O comunque dei curatori fallimentari Noi Molti dicono Ma perché non la metta a posto il comune? Perché noi rischiamo il danno erariale Perché la strada non è nostra E quindi se noi mettiamo a posto Una strada privata Qualcuno può denunciare I nostri dirigenti Di aver fatto un danno erariale Cioè di aver speso i soldi Dei pesaresi Per una cosa privata La strada però Ha una funzione pubblica Come giustamente disse il cittadino E quindi hai una strada Piena di buche E intorno invece Abbiamo asfaltato quasi tutto Fra l'altro in quella zona E quindi è un problema Che i nostri legali Con i legali dei proprietari Stanno cercando di risolvere Perché noi vorremmo metterla a posto Ma ci devono creare le condizioni Per non avere problemi legali Nel farlo Questo è il problema È una questione Ingarbugliata Spero nelle prossime settimane Di riuscire a dare una risposta positiva Perché sta diventando davvero un paradosso È una strada impraticabile E noi non possiamo sistemarla Quindi devono trovare L'escamotage juridico Per poter intervenire La cosa migliore sarebbe Che intervenissero i privati Cosa che abbiamo chiesto più volte Ma che ancora non hanno fatto Ci sono delle novità importanti Che riguardano anche l'asse Tra Via Fratti e Via Giolitti Insomma Delle richieste che erano state avanzate Anche in particolare dai residenti Lì noi abbiamo lanciato un progetto Che adesso vedrà la prima fase Su Via Fratti Che è quella di trasformare L'asse Via Fratti e Via Giolitti Dalla vecchia circonvallazione Perché una volta era quella La circonvallazione di Pesaro A un viale E quindi abbiamo presentato Un progetto con ciclabili Marciapiedi Viali alberati Verde Che lì non c'è Nuova illuminazione Rotatorie E il primo tratto È già finanziato Riguarda la zona di Via Fratti Con la ciclabile E quindi quella È uno dei lavori Che avvieremo quest'anno E quindi spero Il prima possibile Di riuscire a terminarlo Finito quello Andremo avanti Su Via Giolitti Il primo tratto Va da Via Fratti Dall'incrocio Con via Dal ponte del Genica Dall'incrocio con via Ferraris Fino all'incrocio Con via Belgioioso La rotatoria invece di Borgo Santa Maria Quando verrà terminata Le chiedono La rotatoria di Borgo Santa Maria Sono rotatorie sperimentali Quelle che abbiamo fatto Dentro il paese Le renderemo stabili Anche perché funzionano Abbiamo fatto delle modifiche E funzionano La prima che renderemo stabile È quella di Loreto Di Madonna di Loreto Che è molto grande Funziona bene La renderemo stabile Quindi torneremo a New Jersey Abbiamo già reso stabili Nelle settimane scorse Quella di via Solferino Quella di via San Marino E quella del Troni E quindi mano a mano Che le rotatorie sperimentali Funzionano Togliamo i New Jersey E le facciamo Definitive Invece Se fanno riferimento Alla rotatoria Per andare a case bruciate Quella è temporanea Perché Tra le opere Di società autostrade Ci sono Una rotatoria Ad un innesto Verso case bruciate Che deve realizzare Società autostrade Quindi in attesa Che la faccia Società autostrade Abbiamo fatto Quella piccolina In quell'incrocio Che però è un incrocio Molto pericoloso Non è il massimo Ovviamente È una cosa temporanea Però ha ridotto Sicuramente la pericolosità Sindaco A quando il circuito Ciclopedonale Alla torraccia Come praticamente Ha fatto Fano Alla trave Non possiamo essere Secondi ai fanesi No è vero Più che altro Non possiamo Mettere a posto Tutti gli impianti sportivi E non avere uno spazio Per il ciclismo Perché avevamo presentato Un progetto Nel bando periferie sport Eravamo fiduciosi Che potesse essere Finanziato Invece Il governo precedente A questo Ha ridotto le risorse Quindi siamo rimasti Fuori dalla gradatoria Adesso abbiamo Un bel progetto Dobbiamo trovare le risorse Nei prossimi anni Per realizzarlo Perché davvero Se realizziamo Quel percorso Che è davvero Molto bello Sinceramente Non manca Diciamo Tutte le discipline sportive Avrebbero impianti O nuovi O rinnovati E Pesaro Ha una grande storia Sul ciclismo Purtroppo da tanti anni Non hanno Un impianto adeguato Non è che molti Vengono Per fortuna Aggiungo io Che c'è l'impianto Della trave a Fano Perché altrimenti Non avremo uno spazio In questa zona Della provincia Nel quale allenarci Altra domanda Poi abbiamo Un ulteriore telefonata Distretto sanitario Di Pesaro È difficilmente accessibile Soprattutto per gli anziani Non sarebbe auspicabile Utilizzare Le chiedono i locali Alle 5 torri Come distretto Ma oggi La regione Ha approvato Una delibera Per il project financing Del nuovo ospedale Al nuovo ospedale Sono legate Una serie di operazioni Compresa questa Perché Se verrà realizzato Il nuovo ospedale Di Muraglia Speriamo in tempi Non biblici L'attuale San Salvatore Si trasferirà Tutto a Muraglia E noi una parte Del San Salvatore La nostra idea È che venga La parte recentemente Ristrutturata È quella che venga Che veda Che possa ospitare Tutti gli ambulatori Sparsi oggi in giro Per la città Quello che dice il signore Nella domanda Di via 11 febbraio Quello di via Nanter Quello di via Nitti L'asura Ha degli uffici Sparsi in tutta la città E spesso e volentieri Paga l'affitto E quindi concentrarli Nell'attuale Sede ospedaliera Recentemente ristrutturata Ci consentirebbe sostanzialmente Di avere una casa Della salute Più facilmente accessibile Siamo legati Ai tempi dell'ospedale La regione Sta correndo Per fare gli atti Per la gara Del project financing Il primo possibile Perché Noi abbiamo bisogno A proposito di regionali Di arrivare Alle regionali Con un atto Dal quale non si possa Tornare indietro Perché abbiamo discusso Talmente tanti anni Del nuovo ospedale Adesso che ci siamo Adesso che ci siamo Bisogna farlo Sentiamo chi c'è in linea Buonasera Sì buonasera Prego Dunque vorrei invitare Il sindaco Ricci A venire a vedere Personalmente La rotonda Della Chiesi Loreto Aspettavamo Anni Questa rotonda Che venisse fatta Perché l'avio Volini Che convoglie tutto il traffico Da piazza Redi Non poteva girare a sinistra Ora la rotonda È stata fatta E ci sono Un sacco di difetti Prima di tutto Il passaggio Bedonale è strettissimo E subito a ridosso Della curva Proveniente da via Flaminia Pericolosissima In mezzo alla rotonda Ci sono dei parcheggi Per motociclette Che non si capisce Perché sono stati fatti Da via Volini Si continuano A poter girare a sinistra Per fare un giro Assurdo Per andare Sul centro della città Oppure tornare Verso via Flaminia O andare sul cimitero Meglio Peggio ancora Verso l'autostrada Se lei venisse di persona A vedere Si renderebbe conto Che quella rotonda Lì non funziona In più sono mesi Che ci sono I passaggi In plastica Per fare I vari passaggi Sono lì Vengono stretti Sempre di più E insomma Credo che sia Veramente un disastro Grazie per la segnalazione Abbiamo parlato tempo fa Con Belloni Ma ha detto Che non si cambia nulla Venga a vedere E almeno si rende conto Di persona Grazie Sindaco La conosco bene Si passo frequentemente Mi stupisce un po' Questa telefonata Perché Gli incontri che abbiamo fatto Sia in campagna elettorale Che dopo la campagna elettorale In quella zona Con il parroco Con i cittadini Con i negozianti Insomma Tutti hanno dato un giudizio Positivo Sulla rotonda Adesso sicuramente Nel passaggio Della rotonda temporanea Con i userci A quella definitiva Possiamo sicuramente Aggiustare delle cose E le cose che diceva il signore Sono sicuramente domani Le segnalerò Il girare a sinistra I nostri tecnici La reputano Da via Ugolino La reputano una cosa pericolosa Lì ci sono stati incidenti mortali E quindi hanno valutato Che la svolta a sinistra Sarebbe stata molto pericolosa Quindi Quando si fanno queste cose Bisogna tenere conto Sempre di tanti fattori Sicuramente dell'opinione Dei cittadini Però noi abbiamo Devo dire Sono molto orgoglioso di questo Abbiamo dei tecnici Bravi Devo dire Coraggiosi Che spesso e volentieri Nel giro di poco Trovano le soluzioni ottimali Anche con Con piccole modifiche Credo che quella di Madonna di Loreto Dovrebbe andare In questa In questa direzione Non so se l'è arrivata La notizia Delle centinaia di lamentele Dei tram bus scolastici Che passano in via Gattoni Per gli studenti Della Dante Lighieri Che si bloccano Quasi sempre L'incrocio Tra via Gattoni E via Donzelli Sarà ora Di prendere Una decisione Per fare Un altro tragitto Al bus scolastico Oppure iniziare A fare multe A man bassa Le chiedono Sicuramente Soria Ha una viabilità Particolare Perché è un quartiere Con tutte Via senso unico Quindi non è Sicuramente Una viabilità Facilissima all'interno La novità Però sulla scuola È che abbiamo ottenuto Un finanziamento Importante Di oltre 3 milioni Di euro Per fare La Dante Lighieri Nuova A questo Ci aggiungeremo Un milione e tre Del comune E faremo Una nuova scuola La Dante Lighieri Al top Dell'efficientamento Energetico E della sismica Della sicurezza E quindi sicuramente Un grande investimento Così come stiamo terminando L'investimento Su Via La Marmora Perché la scuola È sostanzialmente finita Anche lì Abbiamo ottenuto Un finanziamento Per fare la nuova palestra Quindi Io dico spesso questo Purtroppo Le nascite sono calate Stanno calando E noi quindi Siamo già in grado Di vedere Quanti saranno Gli studenti Tra una decina d'anni L'orientamento Che ho dato Al mio ufficio È stato Quello di avere Magari meno scuole Ma di grandissima qualità Energetica E sismica Questo è l'obiettivo Che ci siamo dati Ovviamente Quando fai una nuova scuola O sistemi una scuola Che c'è Devi gestire anche al meglio La viabilità Così come è stato suggerito Dal Dal telespettatore La invitano a candidarsi Sindaco di Fano Tanto giusto per A Fano prenderei Il 10% Ci arrivo il 10%? Sì che me non ci arrivo I fanesi non voterebbero mai Un pesarese Magari facciamo il cambio con Fano Facciamo un esperimento con Massimo Questo campanismo ancora c'è Lui a Pesaro e io a Fano Ma credo che andrebbe male a tutti e due Meglio che stiamo ognuno a casa propria Ultime domande Perché abbiamo pochissimi minuti Ci scrive Franco Ci dice Sono di Pesaro Vorrei chiedere perché Sotto casa di Sindaco Tutte le mattine alle 6.30 Passa più volte la spazzatrice Per pulire le strade Eccetera Invece Vado a stringere in altre zone Come ad esempio Storia Via Gattoni Davanti alla scuola Medi d'antilighieri Questa è bella Questa è bella Perché casa mia Adesso non lo dico A parte che Ho preso lo sanno tutti Ma lo dico per motivi di privacy Dei miei figli Soprattutto Ma io vivo in centro C'è una via piccola piccola Che è diventato Sembra che lo fanno apposta Che portano tutti i cani A fare la popoli Secondo me lo sanno Che io abito lì E quindi Portano i cani In verità Mi dispetti Io che abito lì Ho le lamentele Dei vicini Contrarie Che mi dicono Ma come Ci abita anche lei Qui la strada È sempre tutta sporca Avendola a portare A farla cacchi i cani Quindi l'esatto contrario È quello che ha detto La persona Che ha fatto la domanda Quindi di certo Non ci sono preferenze Spero che non ci sia Non ci sia Un attesamento Un accanimento Terapeutico Nei confronti Delle strade Dove vive il signo Insomma Quello spero di no Ma di certo Non c'è un favoritismo Non ritrovo adesso Il messaggio comunque Prima leggevo Le chiedevano Sostanzialmente Se questi accordi Con Franco e Luci Ma anche con Delle Luci Fossero già stati presi Prima in campagna elettorale No Assolutamente no Con la Franco e Luci Tutto è nato Dopo la nascita Del secondo governo Conte Sono andato A riprendermi Il loro programma Di governo Ho visto che puntavano In maniera molto forte Sull'università Ho visto altri punti Sui quali Secondo me Si poteva trovare Una convergenza E li ho incontrati Abbiamo cominciato A ragionare su questo Abbiamo approvato Un ordine del giorno In consiglio comunale Quest'ordine del giorno È stato approvato Da tutti Maggioranze Cinque stelle Poi abbiamo dato La delega Alla Franco e Luci E abbiamo lavorato Benissimo in questi anni Cioè Il percorso Con i cinque stelle È stato un percorso Trasparente Lineare Alla luce del sole Programmatico Partendo dai contenuti Che ci ha portato Ad avere risultati Che sinceramente Io e Francesca Pensavamo di ottenere In così poco tempo Ottenuto questo risultato Ci siamo guardati in faccia E ho detto Ma perché non facciamo Il passo successivo A questo punto Rendiamo la collaborazione Ancora più forte Con l'ingresso in giunta E non ti do da seguire Solo l'università Ma ti do da seguire Anche altre cose Sulle quali puoi dare una mano Fra l'altro Sono tutti temi Cari al Movimento 5 Stelle Perché Il tema della democrazia diretta Il tema dei servizi demografici E dell'agenda digitale Dalla città digitale E compreso L'attività economica Perché Francesca È anche una Appartenente Insomma All'associazione di categorie Ha sempre seguito Il tema dei commercianti Per il lavoro che fa Mi è sembrato naturale Dare questo incarico E lei ci ha pensato Poi si è confrontato Con i militanti Del suo partito a Pesaro Ha visto che erano In gran parte favorevoli Anzi in larghissima parte favorevoli E accettato E quindi Tutto alla luce del sole Tutto molto Tutto molto trasparente E è ovvio che oggi Pesaro è diventato Un laboratorio nazionale E noi Cercheremo di farlo funzionare Nel miglior modo possibile Le chiedo di essere veloce Perché ci sono altre Domande per lei Ma gliene leggo soltanto due Abbiamo due minuti a disposizione Le chiedono intanto La viabilità In vista dell'ospedale Unica muraglia Sia da Fano che da Pesaro Se è in progetto Anche qualcos'altro Per agegualarla Ma intanto L'interquartire di muraglia Che si sta facendo È fondamentale per l'ospedale Perché significa Collegare il casello nuovo Con l'ospedale Quindi diventa La strada dell'ospedale In più Col comune di Fano Stiamo ragionando Su come collegare Ancora meglio Io intanto spero Che Fano Possa ritirare fuori Il secondo casello Finile So che Serici sta lavorando Sarebbe una grande cosa Per Fano E per tutta la provincia Poi stiamo ragionando Su come collegare meglio Le strade esistenti Anche dal versante fanese In modo tale che Si possa avere La nazionale Ma si possa avere L'autostrada Ma anche una terza Una terza viabilità Per raggiungere Per raggiungere L'ospedale Anche da Fano Si parla tanto Di Pesaro Musica e motori Però non esiste Una pista adatta A tanti bambini Che vogliono imparare Ad andare in moto Siamo obbligati Ad andare in Romagna Perché non facciamo Qualcosa Non ne facciamo una Non è mai stata posta Come questione Però sicuramente Si può fare Di certo Prima devo fare Quella del ciclismo Perché è un impegno Che mi sono preso Non sono riuscito A rispettarlo Nella legislatura scorsa Perché abbiamo perso Questo bando Speravo di vincerlo E prima devo fare quella Allora L'ultima Dicono che ci sono Intanto delle transenne Molto pericolose Di fianco al tribunale E poi Ci scrivono che Comunque le mura di Fano Sono più belle Quando parlava Di campanilismo Eccetera Però dopo ci scrivono Sempre forza Matteo Fano ha Lo dico sempre Il centro storico Di Pesaro Era un centro storico Che è stato Durante la seconda guerra mondiale Bombardato per l'80% E quindi c'è un pezzo Il centro storico Di Pesaro È molto bello Però c'è un pezzo Che è storico E un pezzo invece Che è costruito Negli anni 50 E Fano ha La particolarità Della romanità Che la rende unica E quindi è evidente Che il centro storico Di Fano Ha una marcia in più Questo è fuori discussione Sindaco Siamo purtroppo Al termine Di questa puntata In diretta Di Primo Cittadino Vorrei ringraziare Intanto regia Riccardo Sora E anche Cristiana Guerra Che hanno seguito Insomma un po' Tutte le telefonate E il tanto lavoro Che c'è dietro le quinte Grazie per essere stato Nei nostri studi So che in questi giorni È impegnatissimo Per cui grazie Per averci dedicato Quest'ora di tempo Grazie a voi Grazie di nuovo Al sindaco di Pesaro Matteo Ricci Grazie a tutti voi Per averci seguito E chiedo scusa Anche per i tanti messaggi Che non sono riuscita A leggere Buona serata a tutti Vi ricordo che le 22.30 Andrà in onda Il telegiornale di mezzasera Buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti